Buongiorno, buon venerdì. 9 giugno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. La quotidiana Rassegna Stampa inizia subito dalle prime pagine regionali. Allora andiamo sul quotidiano Il Centro per vedere le quattro edizioni provinciali. Partiamo da Pescara. Abusi su minore, prete a processo, il titolo di apertura, la Cassazione boccia il ricorso dell'ex parroco di Villaraspa, sarà giudicato in tribunale. E poi a centropagina, discariche abruzzesi, casi di Chieti e Ortucchio, bombe ecologiche bruciate e dimenticate. Il titolo sulla fotonotizia. E poi nelle cronache, Pescara, liceo classico rivolta contro la settimana corta, Sanitopoli, appello Bissi il 4 luglio per l'ex presidente della regione Abruzzo, Ottaviano del Turco. E poi caso delle multe, Soget, Sospiri e Mazzocca. A giudizio, nel taglio basso, i commessi arrestano i ladri, li inseguono in auto dopo il furto fino all'arrivo della polizia. Così i commessi di un noto negozio di via Punta Penne a Pescara hanno di fatto arrestato una coppia di rumeni di 36 e 42 anni. Questi avevano appena messo a segno il furto e pensavano di farla franca, ma non hanno fatto i conti con il coraggio dei dipendenti del negozio. E poi la palla a nuoto, domenica si celebra la Sisley del Triplete. Nel taglio alto, i richiami dal Nazionale, legge elettorale salta l'accordo tra PD e 5 Stelle, alla Camera scoppia la bagarre, poi Russia Gate, l'ex direttore dell'FBI Comey, Trump, ha mentito agli Stati Uniti. Continuiamo con il quotidiano e il centro, la prima di Chieti Lanciano Vasto, giovane annega per salvare l'amica il titolo di apertura di cronaca nera. Tragedia San Salvon, 34enne si tuffa per soccorrere la ragazza, ma viene risucchiato dai mulinelli. Nelle cronache a Chieti, super reparto delle cuore, emodinamica raddoppia. Poi nel taglio basso, WWF in campo contro Megalo 2, l'associazione si costituisce nel ricorso al TAR del costruttore. Poi nella seconda parte vedremo anche il servizio relativo a questa notizia. Andiamo avanti sulla prima pagina di Teramo, ragazzina vittima di un videoporno, il titolo con cui viene aperto il giornale. La giovane nelle immagini non è lei, ma qualcuno le ha diffuse su WhatsApp con il suo nome. Nelle cronache saranno potenziati, la ASL salva gli ospedali di Atri e Giulianova. Nel taglio basso, il processo, violenze sui miei bambini, il padre accusa la ex moglie, ma per i periti è tutto falso. L'accusa è terribile e coinvolge un'intera famiglia. Tre fratellini sarebbero stati abusati sessualmente dai nonni con la connivenza della madre, sua ex convivente. A denunciarlo è il padre dei piccoli, ma per i periti nominati dal Tribunale e dal PM le accuse dell'uomo sarebbero del tutto infondate. Ancora stragi di pecore, sono stati i lupi, ma niente allarme. Andiamo a vedere anche la prima di L'Aquila-Vezzano sul Mona. Il mio programma per L'Aquila è il titolo di apertura, confronto tra i candidati a sindaco nella sede del centro, ultimi appelli prima del voto. Nelle cronache all'Aquila, progetto case, 160 balconi marci sono da demolire. Nel taglio basso, Trasacco, botte dopo le offese razziste, lite tra un commerciante e un pugile della costa d'Avorio. È finita con due denunce la lite a Trasacco. Come detto, il commerciante, 47 anni, rischia di perdere un occhio in ospedale e rimasto sotto i ferri per tre ore. Ha una prognosi di 30 giorni. I carabinieri a scopo precauzionale hanno sequestrato due fucili al 47enne. Poi Castel di Sangro, prof morte in galleria, indagate due donne. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Titolo di apertura, favori a sospiri e mazzocca. Caso soggetta, giudizio il capogruppo di Forza Italia in Regione e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta. L'accusa, immotivate agevolazioni nella restituzione dei debiti, loro si difendono, era tutto in regola. Andiamo a vedere un estratto dell'articolo a pagina 37. Tutti rinviati a giudizio con il processo che inizierà il 24 ottobre prossimo. I quattro imputati dello scandalo soggett. Il caso è quello dei presunti crediti inesigibili del Comune di Pescara per il mancato incasso da parte della società di riscossione delle multe a una serie di contribuenti VIP. Il gruppo Antonella Di Carlo, che ha rigettato tutte le eccezioni avanzate dal collegio difensivo sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e delle mail acquisite durante l'inchiesta, ha deciso il processo per il sottosegretario Mazzocca e per il capogruppo di Forza Italia in Regione e Sospiri. Per il direttore della soggett Gaetano Monaco e per il responsabile del settore esecutivo della stessa società Domenico Ludovico. Abuso d'ufficio falso e false attestazioni di autorità le accuse contestate a vario titolo ai quattro. E poi autostrade, TAR, ordine a Toto, subito i lavori con i canoni statali. Prima di tutto la sicurezza delle persone sulle due autostrade e i lavori sui viadotti a rischio. Il TAR ha raccolto il ricorso di strada dei parchi per far partire gli immediati interventi. Poi ritroviamo la cronaca, inghiottito dalle onde a 34 anni mentre cerca di salvare l'amica San Salvo Giuseppe Fusco, la prima vittima della stagione balneare e così si apre come era terminata la precedente. Una giovane vita inghiottita dalle acque Giuseppe Fusco, 34 anni, originario del Beneventano, la vittima del mare mosso e probabilmente saranno le indagini ad accertarlo di una imprudenza. Una giornata come tante, si legge un bagno forse azzardato in uno specchio di mare non conosciuto, l'allarme è scattato alle 13.30, il 34enne si trovava sulla spiaggia libera tra Lido 25 e il porto turistico insieme ad altre due conoscenti, due ragazze di origine rumene residenti a San Salvo. Decidono di entrare in acqua nonostante il forte vento e questione di minuti, tre vanno subito in difficoltà, una di loro riesce a tornare in spiaggia. Cristina Boncu, una 28enne, sorella dell'altra, uscita da sole. Fusco non riescono a guadagnare la riva, il giovane cerca di salvare l'amica ma le correnti sono troppo forti e lo trascinano via ovviamente e purtroppo, aggiungiamo noi, è stato vano il tentativo dei soccorritori di salvare il 34enne. E poi comunali, leader di Forza Italia, Lancia Biondi, l'Aquila, modello nazionale, il centrodestra compatto per sostenere Pierluigi Biondi all'Aquila, è un modello nazionale, lo sostiene Berlusconi. E poi di spalla Sanitopoli per Del Turco, appello Bissi il 4 di luglio, questa è la data del processo in corte d'appello a Perugia per 5 degli imputati dell'inchiesta Sanitopoli, lo scandalo delle tangenti nella sanità abruzzese che nel 2008 decapitò la giunta, i giudici di Perugia dovranno decidere sulla associazione a delinquere. Nel taglio basso, Lanciano, febbre da gioco per 650 famiglie, preoccupazione a Lanciano e nel comprensorio per una doppia patologia, alcolismo e ludopatia che sempre più colpisce persone di tutte le età, sia uomini che donne. Domani alle 17, l'associazione social Frentano Sangro, ONLUS, apre uno sportello dedicato alle dipendenze. Solamente due settimane fa la lista di maggioranza Progetto Lanciano aveva presentato una preoccupata mozione. Nel fenomeno sono coinvolte 650 famiglie. Andiamo a vedere anche il taglio alto, pescare abusi sessuali sul chirichetto, il sacerdote finisce in tribunale. Poi il racket prostituzione, donna arrestata per la tratta delle nigeriane. Ancora integrazione, Montesilvano ottiene lo Sprar per i rifugiati, cambia il dispositivo dell'accoglienza con il nuovo sistema di protezione, meno stranieri e in strutture alternative agli hotel. I residenti sono contrari e continuano le proteste. Proseguiamo con la lettura delle prime pagine regionali. Adesso ci spostiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura è Boati dal sottosuolo a Montepagano. Da una ventina di giorni tremano muri e vetrate, è chiesto l'intervento della protezione civile. Nel taglio alto, strage di pecore, nell'azienda d'allevamento per la AS a Sardinare, è stato un branco di lupi e poi sicurezza dell'acqua bacchettate per i sindaci assenti ai laboratori. A centropagina, la cronaca, le portiere dell'auto della nonna erano bloccate. A Montorio, salvato una bimba in trappola e sotto la fotografia, figli plagiati accusano mamma e nonni. Abusi sessuali, ma le perizie mettono il padre sotto accusa. Di spalla, Tortoreto, il Manacara vince un altro round al Tarra. Notaresco, da lunedì, il Cirsu chiude un'altra volta. Giulianova, scuole sicure e striscioni contro i ritardi. E poi il calciomercato e lo sport, dunque, dopo il DS Repetto, il Teramo prova il salto con Asta in panchina. Troviamo anche l'invito di Marcello Maranella, un rilancio a suon di violino. Oggi pomeriggio prende il via la ventunesima edizione della vetrina del parco. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale, andando a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Il Corriere della Sera, Naufraga, l'accordo tra Renzi e Grillo. L'apertura riguarda ovviamente la politica interna, battuta la maggioranza sul nuovo testo. Il voto giallo sul voto segreto è diventato palese per un errore all'interno della Camera con il voto che è stato palesato sul tabellone. Idem, la riforma è morta. Legge elettorale, scontro alla Camera tra PD e 5 Stelle sui franchi tiratori. Il Quirinale è preoccupato da questa situazione e c'è l'intervento di Massimo Franco, gli errori e la voglia di forzare il titolo. Poi a centropagina, Regno Unito, exit poll, Meia Retra, non ha la maggioranza dati, cioè gli exit poll confermati anche dai dati ufficiali. Nei primi dati rimonta dei laboristi la frenata dei conservatori che, praticamente ufficiale, non avranno la maggioranza assoluta all'interno del Parlamento inglese. E nel taglio alto l'ex capo dell'FBI al Senato, Comey, vi svelo le bugie di Trump. Proseguiamo sulla Repubblica. Caos in aula, salta la legge elettorale, Renzi al voto nel 2018, apro a Pisapia, questa è la lettura della situazione politica italiana data dalla Repubblica. Scambio di accuse tra PD e 5 Stelle, errore tecnico sul tabellone, 59 franchi tiratori, il colle torni il dialogo. E poi nel taglio alto, May 1, maggioranza in bilico, Regno Unito a rischio ingovernabilità, le elezioni dopo la Brexit, flessione dei conservatori, grande successo per Corby, fuori lo UKIP cade la sterlina. Proseguiamo con la lettura delle prime pagine nazionali. Andiamo sulla stampa che fa un parallelismo tra quanto sta accadendo in Gran Bretagna e quanto sta accadendo negli Stati Uniti, con queste due fotonotizie poste in parallelo. Trump le accuse di come, cacciato per il Russiagate al Senato, il giuramento dell'ex capo dell'FBI, il Presidente risponde, non ho mentito. E poi May perde la maggioranza, Gran Bretagna nella palude, gli exit poll danno i conservatori in vantaggio, ma Corby ne cresce. Possiamo andare sul sito del Corriere della Sera.it per vedere i dati aggiornati, i dati reali dello spoglio in corso in Gran Bretagna. Sono 318 attualmente i seggi per il partito conservatore e 261 per il partito laburista. Dunque si conferma la grande remuntada dei laburisti guidati da Corbyn su Teresa May che ha voluto indire queste elezioni anticipate per avere una maggioranza più forte, per poter così trattare a brutto muso con l'Unione Europea la Brexit. Invece attualmente c'è una situazione di ingovernabilità con un probabile governo di minoranza o di coalizione per quanto riguarda il Regno Unito. Possiamo tornare sui nostri giornali. Continuiamo con la stampa che ovviamente titola anche sulla legge elettorale. Addio legge elettorale, rebus voto, Grillo si sfila, adesso fatevela voi. Renzi a Berlusconi non riesco a tenere neanche i miei. Un errore svela nel tabellone elettronico della Camera i voti di 59 franchi tiratori che mandano a monte l'intesa A4 che si era raggiunta per la nuova legge elettorale. Proseguiamo. Il fatto quotidiano, le regole del voto, Rissa PD 5 Stelle, rotto il patto, Renzi si impicca al Trentino, legge morta, Mattarella, nessun decreto. Ovviamente il riferimento è all'emendamento che è stato votato, che riguardava l'applicazione della legge elettorale anche al Trentino Alto Adige. Emendamento che era stato bocciato nella Commissione, poi invece approvato all'interno della Camera. E poi la Gran Bretagna, May, vittoria bucata, non c'è maggioranza, risorge il Labour Party. A centro pagina, Consip, Marroni, sei ore da IPM, scafarto, inguaiato dalla chat. L'inchiesta sentito alla D che tira in ballo Lotti e salta la macchia per la fuga di notizie. Andiamo sul messaggero ora. Corbyn, crolla lo UKIP che è il partito che aveva promosso il referendum sulla Brexit, scozzesi, anche gli indipendentisti scozzesi sono attualmente indeboliti da queste elezioni. E poi la deposizione al Senato, l'ex capo FBI, Trump bugiardo, interferenze russe sul voto, si avvicina sempre più lo spettro dell'impeachment per Donald Trump. Il Tempo ora. Oggi le comiche, caossa la Camera, franchi tiratori scoperti, crolle il patto PD 5 Stelle, scambi violenti di accuse, tradimenti, la legge elettorale è morta. Questo è il titolo del quotidiano Il Tempo. E poi caccia all'Isis negli stabili occupati, primo sgombero a Roma, allarme per uno jihadista appena scarcerato. Andiamo su il giornale. Quello che sta accadendo nella politica italiana. E poi non aiutò la mafia, mori assolto dopo nove anni di calvario giudiziario, la Cassazione, nessuna trattativa, ennesimo flop dei PM di Palermo. Andiamo su Libero, restando ai quotidiani di aree di centrodestra. La politica ha disgustato tutti, non voterà più nessuno. Tragicommedia alla Camera per un emendamento di Forza Italia non concordato con PD 5 Stelle. Lega salta il patto sulla riforma elettorale, quello che vi dicevo che riguarda il Trentino. Scattalo, scarica barile. Che tristezza, il mondo fa lo spettacolo. Noi siamo da avanspettacolo. Renzi si illude, decreto è sciogliere il Parlamento. Grillo vai dal neurologo, poi evoca la violenza. E ancora Matteo ha le corde dopo l'insuccesso sulle urne anticipate. Eutanasia di un leader. Andiamo sulla verità. Legge elettorale ha fossato l'inciucio e il bullo le prende un'altra volta. L'accordo di Renzi con Grillo e Berlusconi, naufroga in aula sotto i colpi dei franchitiratori. Voto a settembre. Addio. E poi tutte le leggi fatte contro gli italiani, dai contributi all'impresa, alle case, ai posti di lavoro. Governo, regioni e comuni sfornano a getto continuo provvedimenti che favoriscono gli stranieri e discriminano chi invece è nato qui. Questa è la posizione del giornale di Belpietro. Proseguiamo invece cambiando schieramento, andando nella sinistra. Il manifesto Tori infuriati è il titolo sulle elezioni nella Gran Bretagna. Theresa May fallisce il blitz elettorale per la Brexit. Gran Bretagna spaccata e ingovernabile. Secondo i primi exit polli, i conservatori perdono la maggioranza assoluta con 314 seggi. Attualmente siamo a 318, l'abbiamo visto prima. Jeremy Corbyn porta il Labour a oltre 260 seggi, guadagnandone 34. Scompare l'estrema destra dello UKIP. Il Financial Times titola Disastro May. Crolla la sterlina sui mercati asiatici. E poi nel taglio alto decine di franchi tiratori impallinano l'intesa sulla riforma elettorale. Voto segreto. Il tedesco non vola più. Continuiamo con il dubbio. Ciaone alla legge elettorale. Grillo l'auto affonda e ora un emendamento minore della Biancofiore fa saltare l'accordo. Il PD dice è finita. E poi a centropagina. Ti scarceriamo solo se parli. L'inquietante proposta del Presidente del Senato Pietro Grasso. Continuiamo con avvenire. Voto scaccia voto. I franchi tiratori stoppano la legge elettorale. Urne più lontane. Accuse incrociate. PD 5 Stelle. Questo è il titolo che riguarda la legge elettorale. E poi i Vescovi da Francesco. Il Venezuela allo stremo. Un titolo che richiama la crisi nel Sud America. E poi Trump ha mentito. Accuse al Presidente. Questo per quanto riguarda il Russiagate. negli Stati Uniti. Il secolo XIX. Il quotidiano genovese. A piccola legge elettorale. Svelati i franchi tiratori che affondano l'intesa. I timori del Quirinale. Il PD. La riforma è morta. Grillo. Ora fatevela voi. Questa è neurologia. E poi l'ex capo FBI al Senato. Trump ha mentito. Come i giura. La Russia ha interferito sul voto negli Stati Uniti. Come i risposti in maniera secca. Ad una precisa domanda. se avesse dei dubbi sulle interferenze russe nelle elezioni statuditensi. E lui ha detto. Non ho dubbi. La Gran Bretagna. May. Vittoria di Mezzata. C'è il rebus della maggioranza. Continuiamo sul mattino di Napoli. May nella trappola del voto. Il Premier vince ma non ha la maggioranza. I laburisti recuperano una trentina di seggi. Parlamento diviso in due. Più debole. La lide dei torres. I liberali. No alle coalizioni. E poi il Russiagate. L'ex capo del FBI al Senato. Come gli accusa. Trump ha mentito. Mosca ha interferito sul voto negli Stati Uniti. A centropagina lo sport che offende il gestaccio dei sauditi. L'oltraggio al silenzio per i morti. Con la formazione dell'Arabia Saudita che non ha rispettato il minuto di silenzio. Giustificandosi poi con una questione di propria cultura. E ancora lo sport che piace. I sanniti battono il Carpi 1-0. Benevento in ala. Notte delle streghe. Con la promozione della squadra guidata dall'ex tecnico delle Pescara Marco Baroni. Anche qui andremo a vedere le immagini della festa nella seconda parte della nostra rassegna stampa. E nel taglio basso. Scafarto voleva arrestare Tiziano Renzi. La chat incastra il capitano del 9. Interrogatola di Consip Marroni. La gazzetta del Mezzogiorno. Il quotidiano pugliese. Alto là. Al voto anticipato. Si sfalde. Il patto a 4. Salta la riforma elettorale. Il caos è totale. Soddisfatti gli irriducibili dei 5 stelle. La preoccupazione del Presidente della Repubblica Mattarella. E poi l'ILVA. Calenda sicura. Nessun licenziato. Sulla stessa linea i ministri Martino e Pinotti. Fronte popolare tra Vescovo e sindacati per il nodo del siderurgico di Taranto. E poi il gazzettino. Il quotidiano del nord-est. Caos e veleni. Addio a legge elettorale. Alta tensione alla Camera. I 5 stelle. I franchitiratori affossano il sistema tedesco. Il PD dice. La riforma è morta. Passa l'emendamento Biancofiore. Tra i cecchini anche 40 dem. Berlusconi. Accordo. È l'unica strada. E poi schiaffo alla May. Ma senza la maggioranza. Siamo più o meno tenendo sotto controllo i dati sempre dal sito del Corriere.it. I dati aggiornati. Siamo più o meno sulla linea precedente. 314 a 261 seggi tra conservatori e laburisti. Proseguiamo con la lettura delle prime pagine. Adesso andiamo ad aprire i quotidiani economico-finanziari. Il sole 24 ore affonda la legge elettorale. Corre la borsa. Spread giù. Salta il patto PD 5 stelle. Forza Italia e Lega. Piazza Affari in rialzo dell'1,4%. Il Colle. Leggina che armonizzi i sistemi. No al decreto. È prematuro. E poi troviamo un'altra notizia. Un'intervista a Berlusconi. Berlusconi sulla legge elettorale andremo avanti. I PD e 5 stelle siano responsabili. No a patrimoniali aumenti IVA. Flat tax al 23%. E poi commercialisti. Torna la protesta all'assemblea annuale della categoria. Il governo apre su sindaci e revisori. Nel taglio alto il focus. Accordi con il fisco più semplici per chi fa nuovi investimenti. Presentate alle entrate domande per 5 miliardi. Quindi una notizia che riguarda l'economia europea. Svolta a BCE sui tassi. Non servono nuovi tagli. Draghi dice che non c'è rischio dell'inflazione. Andiamo avanti. Milano finanza. Un'altra colletta per le venete. Unicredit intesa. Sono pronte a una soluzione di sistema pro quota. Per raccogliere 1,2 miliardi privati pretesi dall'Unione Europea. E scongiurare il bail-in. Ma le altre nicchiano. Tocca al tesoro l'opera di moral suasion. L'intervento del Santander sul Poplar ha sbloccato la situazione anche in Italia. Poi BCC. 110 banche stanno con cassa centrale. Inflazione rivista a ribasso. Altro schiaffo di Draghi a Weidman e Berlino. La BCE è pronta ad aumentare il quantità di easing. E poi dietro fronte in aula. Salta l'accordo a 4 sulla legge elettorale. Il voto più lontano spinge in alto piazza affari, più 1,5%. Italia oggi zone franche nel mezzogiorno. Per attrarre investimenti calenda prepara un decreto legge con esenzioni IRS e IRAP. Taglia le imposte comunali e i contributi previdenziali dei dipendenti. Andiamo a vedere anche i quotidiani sportivi nazionali. Milan, la gazzetta dello sport, i rossoneri sul mercato non si fermano più, Biglia più conti. Milan doppio sì, l'argentino della Lazio e l'esterno Atalantino hanno scelto Montella. Tare a Milano per chiudere, trattativa con percassi, differenza di 7 milioni. E poi nel taglio alto vi è una pazzesca giostra di attaccanti con cifre da capogiro, punte di diamante. Conte scarica Diego Costa con un SMS e per i grandi centravanti d'Europa si aprono superaste. Da Mbappé a Belotti fino a Aubameyang e Morata caccia il bomber con i top club italiani alla finestra. Di Spalla, Roma, Di Francesco il nuovo tecnico, Porta a Cerbi e poi Juve, obiettivo Douglas il brasiliano tedesco e c'è la pista. Keita, Inter, Rudiger e Dalbert sempre più vicini, Jansu, Idea, Capello. Per il Barcellona messi 30 milioni netti a stagione, CR7 risuperato in questa battaglia di ingaggi. Il Corriere dello Sport, 82 mila euro al giorno. Il Barça copre Messi d'oro, un contratto da record per l'argentino, 30 milioni a stagione e una clausola rescissoria mostre di 400 milioni. La scadenza nel 2021, il giocatore è un sogno, chiudere in Blaugrana. Nel taglio alto Milan senza freni, anche Diego Costa, Belotti resta in polma, c'è una novità. Rudiger all'Inter adesso ci siamo, pressing sulla Roma, c'è il sì del giocatore che vuole raggiungere Spalletti. Juve in Spagna per il nuovo play, Niesta il sogno, piace anche Zonzi. Poi Benevento in Serie A, il gol di Puskas regala la storia, Carpi resta in B. Continuiamo con tutto sport, Manchester United, 80 milioni per Belotti tremano i polsi, le mosse di Murigny scatenano un effetto domino. Il primo obiettivo è Morata ma il Manchester United cerca anche il bomber del Toro, il Milan vira su Diego Costa scaricato dal Chelsea. Nel taglio alto l'ora di Nzonzi, la Juve prepara i botti, tratta col Siviglia per il centrocampista e vede Schick. Nel taglio basso la metamorfosi del Barça, basta cantera, si compra e poi il Benevento, festa infinita, prima volta in Serie A. La Formula 1 vuole salire a 25 gran premi, Alonso allora me ne vado. Questo per quanto riguarda i titoli delle prime pagine, noi ci fermiamo per un break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo allora alle notizie dalla nostra regione andando ad aprire le pagine interne dei quotidiani. Bruciate e abbandonate il primo piano del centro, bombe ecologiche da Bruzzo, da Chieti ad Ortucchio, discariche con tonnellate di rifiuti incendiate e mai bonificate. E poi Mazzocca disse puliremo tutto ma non è accaduto. A settembre del 2016 l'assessore regionale prese l'impegno a trovare risorse per la bonifica del sito Teatino, nel bilancio però non c'è traccia dei fondi. La denuncia di Bracco ora basta, il consigliere regionale di Sinistra Italiana interviene sul caso di Ortucchio, dopo 8 anni da quell'incendio devastante i cittadini attendono ancora interventi. E poi la multa dell'Unione Europea alla regione, 29 siti nel mirino. Dagli ultimi dati ufficiali della Commissione dell'Unione Europea in Abruzzo ci sono 29 discariche irregolari da bonificare. Proseguiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Autostrade sicure, strada dei parchi, batte del Rio e Anas nella pagina dell'attualità. Lavori su 107 viadotti lesionati, Toto vince il ricorso al Tar sui fondi, i giudici restino al Ministero dei Trasporti. Andiamo anche sul messaggero per vedere il titolo di apertura della pagina. Abruzzo, il Tar dà ragione a Toto, lavori sulle autostrade con i canoni dello Stato. I giudici ordinano l'immediata messa in sicurezza di A24 ed A25, no al trasferimento dei finanziamenti all'Anas con la manovrina. E poi aeroporto, la regione contro i 5 Stelle, traffici in ripresa, ora nuovi voli. La flessione del 2016 dovuta alla paura degli attentati, alla ridotta attività di Alitalia e ai lavori sulla pista. Nel taglio basso, camere di commercio, nozze pescarachieti, promessa suggellata dal patto dei due mari. Il progetto Adriatico Ionio, collaborazione su pesca, ambiente, turismo, sostenibile e imprenditoria. Andiamo a vedere anche il titolo della pagina Abruzzo della città. Allora, eccola qui. Sicurezza dei viadotti, il Tar dà ragione a Toto, accolto le richieste di strada dei parchi, i lavori già avviati devono andare avanti senza impedimenti. I finanziamenti, il giudice amministrativo ha disposto che le somme da utilizzare siano quelle delle due rate del prezzo di concessione, somme accantonate per le annualità 2015 e 2016 da strada dei parchi, in un fondo speciale vincolato e destinato al Ministero per un ammontare di 111 milioni di euro. Il caso Anas, il Tar ha ribadito che i canoni di concessione devono andare al Ministero e non all'Anas. Nel taglio basso, la giudiziaria, inchiesta Sogget, rinviati a giudizio Mario Mazzocca e Lorenzo Sospiri. Il primo è accusato di abuso d'ufficio, il secondo anche di falsa attestazione per la vicenda dei crediti inesigibili del Comune di Pescara. Proseguiamo con la lettura delle pagine interne del centro, andiamo dunque sulla pagina Abruzzo, l'apertura dedicata alla notizia che abbiamo visto poc'anzi sulla città, presunti favori ai politici, caso Sogget, Mazzocca e Sospiri a giudizio. Il primo avrebbe beneficiato della mancata riscossione di 22 mila euro, l'altro della rateizzazione di 13 mila euro di multe. La replica, il forzista, il debito è stato già saldato. Mario Mazzocca preferisce chiarire la sua posizione in una conferenza stampa che convocherà nei prossimi giorni. Sospiri invece replica subito. Prendo atto della decisione assunta dal gruppo del Tribunale di Pescara di risporre il mio rinvio a giudizio, le multe sulle presunte multe non pagate sono state da me puntualmente saldate prima dell'inizio dell'inchiesta. Questo dichiara Sospiri. Poi, restando la cronaca giudiziaria, Sanitopoli, appello Bissi, il 4 luglio, processo a Perugia del Turco Quarta e Cesarone per l'associazione a delinquere. Diga di Chiauci, operazione verità di Amicone e Pepe per quanto riguarda ieri quando si è parlato delle condizioni attuali della Diga e dei progetti futuri assicurando il ristoro idrico agli agricoltori ma anche all'industria e al turismo grazie ad una convenzione esiglata con l'Arap. Proseguiamo con la pagina Abruzzo. Ecco i progetti per il futuro dell'Aquila, ricerca, sviluppo e tecnologie digitali ricevono l'ok del Vice Ministro Bellanova ricadute su tutta la filiera industriale. Vedete il piano ZTE, lo sviluppo delle reti 5G, il trasporto intelligente, rivelatori di luce al silicio per il piano Darkside e poi il piano S4L, la banda ultralarga. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro, adesso andiamo a vedere l'apertura della pagina di Pescara. Abusi in canonica, la Cassazione, il parroco non può evitare il processo, ricorso inammissibile, giudizio, l'ex prete già condannato dalla Chiesa. I presunti abusi sessuali in canonica e qui vengono ricostruite le tappe di questo caso. La difesa, la verità in una chat, depositati i messaggi WhatsApp, non c'è stata violenza secondo la difesa di Don Vito Cantò. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina di Pescara del messaggero. Recuperiamo il giornale, eccolo qui, soggetta giudizio, sospiri e mazzocca per quanto riguarda questa inchiesta sulle multe VIP, poi abusi sul chichetto, riprende il processo, respinto il ricorso dell'ex parroco Don Vito Cantò e nel taglio basso, crescenti, quante bugie sul clima, ecco perché tifo Trump, il geologo ed ex rettore della D'Annunzio e tra i pochi sostenitori della svolta statunitense, nessuna relazione dice fra CO2 e aumento della temperatura. Continuiamo con la lettura del messaggero delle pagine di Pescara. Fosso Vallelunga, divieto revocato, inquinamento rientrato, dice l'Arta, scotolati, ora le analisi a via Balilla. Via Libera e i lavori del pronto soccorso in Consiglio Comunale, approvata la delibera. Torniamo sul quotidiano Il Centro adesso per proseguire la lettura delle pagine di Pescara e torniamo proprio sulla notizia del nuovo pronto soccorso. Consiglio Comunale, nuovo pronto soccorso in quattro mesi, via Libera dell'Assemblea alla variante per l'ampliamento e l'ammodernamento del reparto ospedaliero di Emergenze. Il progetto della rotatoria che sarà realizzata, l'incrocio tra via Fonte Romana e via Monte Faito, vedete proprio il progetto e poi un rendering del nuovo pronto soccorso dell'ospedale. Pioggia di emendamenti, la Caritas non ha più risorse rinviato. Il voto sui debiti per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare ai meno abbienti. Nel taglio basso, Confcommercio, no al mercatino, delegazione di senegalesi in municipio. L'associazione parla di scelta sbagliata e di costi scellerati, tornando alla manifestazione che c'è stata qualche giorno fa. Andiamo avanti ancora con la lettura del quotidiano Il Centro. La cronaca sempre dalle pagine di Pescara. Commessi inseguono i ladri dopo il furto e li fanno arrestare. Due addetti della Mauriz in auto evitano la fuga di una coppia di romeni, intercettata e fermata poco dopo dalla polizia. E poi prostituzione, traffico di donne straniere, sfruttatrice, presa a pescare, evasione fiscale, dichiarazione dei redditi mancata, impresa è stata denunciata. Continuiamo. Settimana corta al liceo d'annunzio, 330 firme per dire no a petizione dei genitori contro la proposta di allungare l'orario del venerdì, contrari anche gli studenti che dicono è faticoso ed inutile. E intanto slitta la riunione per le aule del Da Vinci nella struttura di Piazza Grue. Andiamo ancora avanti con la lettura del quotidiano Il Centro e adesso passiamo alla pagina di Montesilvano. Arrivano i richiedenti asilo rifugiati, Montesilvano la più accogliente, si del Ministero al progetto del Comune per l'attivazione del sistema di protezione Sprar, il più finanziato d'Italia con 2 milioni e mezzo di euro. Ma i residenti di Santa Filomena protestano, comitato di nuovo in piazza, sanno agli immigrati e all'ex artigian luce e rischia di nascere un altro ghetto. E allora sugli Sprar andiamo a vedere il servizio che riguarda la conferenza stampa che c'è stata ieri in municipio per presentare il progetto. Prendere al via ufficialmente il primo agosto o al massimo entro settembre il progetto Sprar a Montesilvano che prevede l'accoglienza di 161 migranti in 10 strutture sparse sul territorio comunale. Montesilvano è tra i primi comuni italiani che hanno fatto richiesta ammessi al finanziamento del Ministero dell'Interno per circa 2 milioni e mezzo di euro. Con l'avvio del progetto Sprar si pone fine ai CAS, i centri di accoglienza in regime straordinario. Dunque verranno chiuse le strutture alberghiere sul lungomare che attualmente ospitano circa 200 migranti e che in passato sono arrivate ad ospitarne 350. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello da un lato di offrire accoglienza qualificata con numeri certi rispetto alla presenza di profughi, dall'altro di stoppare il business dell'accoglienza. Su quest'ultimo punto il sindaco Maragno ha usato parole forti scagliandosi contro chi agita le proteste parlando alla pancia di cittadini spaventati. Ma soprattutto andiamo a sconfiggere il business dell'accoglienza affiutato anche da qualcuno che in questi giorni, in queste ore, in cute terrore istiga i cittadini alla protesta e che in prima persona si era dato da fare per trovare altri immobili da destinare ad ulteriori centri di accoglienza sul territorio andando probabilmente con la precisa finalità a voler far proliferare la presenza dei profughi sul territorio. Noi diciamo stop a questo, diciamo sì ad un'accoglienza qualificata perché siamo tenuti dal governo in virtù dei nuovi accordi fatti con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ad accogliere però diciamo noi chi accogliere, quando accogliere e soprattutto dove collocarli e come gestirli. Nella struttura Ex Artigian Luce al centro di numerose proteste dei residenti saranno sistemati circa 38 migranti, meno del previsto dice l'amministrazione comunale perché si sta lavorando anche all'acquisizione di altri mobili con i bandi ancora aperti. Nessun profugo poi nel centro Trisi, rassicura Maragno, la struttura continuerà ad essere ad uso sportivo. Vogliamo evitare i ghetti come in via Ariosta, ha continuato il sindaco che ha ricordato come chi verrà ospitato a Montesilvano grazie al progetto Sprar dovrà frequentare obbligatoriamente la scuola se in età scolare oppure prestare lavori socialmente utili. Polverizzare la presenza dei profughi sul territorio in modo tale da garantire a loro l'integrazione, da garantire ai cittadini la sicurezza ai cittadini di riapproparsi dei propri spazi e del proprio territorio da vivere in assoluta tranquillità ma soprattutto utilizzando gli stessi profughi per un piccolo contributo da dare a favore dei soggetti ospitanti attraverso dei lavori gratuiti. Continuiamo con la pagina dell'area metropolitana del centro bocciodromo da 17 anni e solo una scatola vuota a Montesilvano la struttura di via Chiarini è rimasta una incompiuta senza risposta alla mozione presentata a febbraio dal consigliere Di Stefano e poi bracconaggi in un lago denunciato da due pescatori andiamo nella pagina che riguarda la bassa Val Pescara lavori fermi e proteste la ciclabile resta al palo a Francavilla secondo il sindaco l'opera doveva ripartire lunedì così non è stato, gli operatori turistici accusano dopo l'ecomostro adesso anche l'incompiuta andiamo avanti con la lettura delle pagine del centro Pene Popoli Alta Val Pescara Filippi sia la costruzione dell'azienda farmaceutica Bussi concluso l'iter per l'acquisizione dal comune dell'area di 15 mila metri ora la società può partire con la progettazione l'investimento è di 50 milioni andiamo avanti con la nostra rassegna e adesso torniamo sul messaggero per aprire la pagina di Chieti artigiani e negozianti fronte comune contro Megalo 2 non si sente la necessità di un altro centro commerciale le associazioni affiancano la battaglia degli ambientalisti in apertura della pagina un nuovo ricorso al TAR contro la società Asile Costruzioni che punta a ribaltare il no del comitato via per i rischi idrogeologici allora vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti un ricorso ad oponendum per Megalo 2 WWF è contrario a questo nuovo sito commerciale oggi spiegate in conferenza stampa le ragioni di questo no un no perché finora si è rischiato tanto in quanto lì già esiste Megalo 1 e Megalo 1 è stata sfiorata quasi la tragedia nel 2013 nel dicembre 2013 quando c'è stata alluvione perché l'acqua l'ambito, quell'argine che non era stato completato e l'inaugurazione di Megalo 1 è stata fatta nel 2005 e oggi siamo nel 2017 e ancora l'argine in quelle condizioni vorrei sapere se le persone che si recano lì Megalo 1 a fare gli acquisti siano consapevoli siano stati informati di questo rischio noi non vediamo proprio la necessità di un ulteriore centro commerciale e questo vorrei sensibilizzare visto che ne ho la possibilità tutta la vallata sotto questo profilo perché il Megalo non ha svuotato solo il centro storico di Chieti ma ha svuotato tutti i paesi dimitrofi il Megalo non è pericoloso solo per Chieti ma è pericoloso per tutta la vallata credo che l'opposizione sia assolutamente doverosa e continueremo a fianco al WWF questa battaglia contro questa opposizione che tra l'altro è un'opposizione al Comitato Via che secondo noi non è stata fatta neanche con i canoni giusti Dalla pagina di Chieti del centro tragedia San Salvo annega 34 anni per salvare l'amica Giovanni Fusco si è tuffato quando ha visto la 28enne in difficoltà e è stato risucchiato dai mulinelli salve le altre due ragazze nel taglio basso inaugurato il super reparto del cuore sempre a Chieti l'emodinamica trova casa dopo 35 anni raddoppiate le sale una è dedicata alle emergenze vediamo insieme il servizio Sessore Paolucci inaugurazione questa mattina del nuovo reparto di emodinamica dell'ospedale clinicizzato di Chieti parliamo di un reparto all'avanguardia nel polo del cuore beh assolutamente sì abbiamo atteso 35 anni per avere un reparto autonomo di emodinamica con due sale attrezzate all'interno del polo tecnologicamente avanzato del cardiochirurgico di Chieti e la strumentazione messa a disposizione è di ultima generazione il che vuol dire essere davvero molto precisi intervenire con grande qualità sia grazie ai professionisti sia grazie evidentemente alla tecnologia e allo stesso tempo aumentare il numero delle procedure perché con due sale saremo in grado di garantire sia il programmato e sia la disponibilità sempre e permanente per la cosiddetta procedura di emergenza credo che davvero si faccia un vero e proprio salto di qualità atteso da 35 anni l'inaugurazione di oggi è un punto di arrivo di un percorso che è iniziato tantissimi anni fa iniziato al San Camillo negli anni 90 e terminato qui oggi con varie tappe diciamo così fino ad arrivare ad acquisire queste due apparecchiature angiografiche di ultima generazione che ci permetteranno di trattare gestire al meglio le patologie cardiache in modo invasivo cioè attraverso una piccola anestesia locale dal polso generalmente e di fare un po' quello che il chirurgo fa in sala operatoria dilatare le coronarie in via percutanea e addirittura quello che noi ci proponiamo di fare a breve tra qualche mese cominciare ad impiantare la valvola ortica attraverso sempre un accesso vascolare e non con la chirurgia tradizionale continuiamo con la pagina dell'Aquila del messaggero progetto case ecco i tempi per chi deve lasciare gli alloggi molti assegnatari si sono precipitati negli uffici per chiedere soluzioni De Paulis chi non accetta gli appartamenti assegnati non andrà neppure in albergo l'assessore Pelini disponibilità soprattutto nella zona di Camarda ed a Sergi proseguiamo con le notizie dall'Aquilano la città al voto l'Aquila con Biondi modello nazionale l'intervista a Silvio Berlusconi per quanto riguarda le prossime elezioni dell'11 di giugno e poi il vice ministro Bellanova tiene a battesimo i progetti 4.0 notizia che abbiamo visto anche in precedenza sul quotidiano Il Centro andiamo avanti la pagina di Avezzano sul Mona Don Antonio e i parrocchiani votate così una lunga mail scritta dal sacerdote a 2000 fedeli nella quale vengono espressi alcuni concetti morali gli amministratori pongano il bene comune al primo posto no a chi vuole andare al potere per farsi gli affari propri andiamo sulla pagina aquilana anche del quotidiano Il Centro violenza a trasacco offese razziste il pugile lo aggredisce commerciante rischia di perdere un occhio denunciati entrambi i carabinieri sequestrano anche due fucili passiamo alla città adesso per andare a vedere le notizie dal Terramano la crisi dei rubinetti di Sabatino Bacchetta i sindaci assenti altro che passerella l'incontro dell'INFN fondamentale per capire come intervenire sull'acqua e nel taglio basso l'assenza dei sindaci impedisce il reale coinvolgimento dei cittadini l'osservatorio sulle acque continua a pungolare le istituzioni il 17 giugno un nuovo incontro continuiamo sulla città la crisi a Terramo braccio di ferro tra gattiani e dissidenti il sindaco prepara la riunione di maggioranza decisiva di stasera uno dei due gruppi dovrà cedere stasera alle 17 la riunione futuro IN si riuniranno prima dell'incontro con il sindaco non si esclude un eventuale appoggio esterno i dissidenti oltre alla giunta 6 hanno fatto un'altra serie di richieste al rialzo sulle quali dovrebbero cedere gli altri dissidenti dalmati spaccati con campana che vorrebbe incontrare il sindaco a N senza problemi ma resta molto ferma continuiamo sul quotidiano la città accusati da busi sessuali dai figli plagiati dal padre mamme e nonni materni sotto inchiesta a Terramo le perizie mediche svelano un quadro familiare però opposto un solo software per gestire la ricostruzione oggi all'università di Terramo l'incontro promosso dal Lance per fare luce e il punto sulle pratiche e le procedure per la ricostruzione la ASL dice è stato un assalto di lupi per quanto riguarda l'assalto all'allevamento di pecore continuiamo con la notizia dalla provincia bimba chiusa in auto salvata dai pompieri a Montorio le porte si sono chiuse accidentalmente intrappolando la piccola di 20 mesi lo stratagemma per distrarre la piccola durante le operazioni i vigili le hanno mostrato delle caramelle continuiamo con la città andiamo a vedere un'altra notizia questa volta dalla pagina di Roseto Pineto a Tresilvi boati dal sottosuolo di Montepagano chiesto aiuto alla protezione civile per il fenomeno che scuote il borgo da una ventina di giorni boati scuotono la zona ovest facendo tremare vetrate e muri continuiamo la nostra rassegna adesso passando allo sport e andiamo dunque ad aprire la pagina dell'Abruzzo Sport del quotidiano il centro il triplete 30 anni dopo quando la Sisley dettava legge domenica l'enaia di la festa con i protagonisti che fecero grande la palla a nuoto a Pescara anche in ricordo della scomparsa di Pomiglio e poi le manovre del Pescara Biraghi ai saluti Valiette avanza muratore nel mirino il Bologna sul terzino ma l'udinese è pronta al rilancio i baby di Inter e Juve primavera le idee per la retroguardia e poi l'allenatore del Milan primavera Nava vi racconto Vido e lui l'erede di Immobile con il Boemo può esplodere pronto per la Serie B ma ancora grandi margini di crescita il calciomercato consiglio i giovani Modic Chioce e Perez e poi nel taglio basso promozione anche per l'Aquilano del Pinto il Benevento nella storia è in Serie A i sanniti di Baroni battono il Carpi di Castori davanti a 18.000 tifosi andiamo a vedere le immagini della festa con l'intervista prelevata dalla diretta di Sky dell'allenatore Baroni questa è una squadra che al di là di tutto al di là dei meriti mia che non mi interessano in questo momento ma è una squadra che ha fatto più supremazia ha fatto più tiro in porta è una squadra che è seconda per palleggio è una squadra che è stata straordinaria per tutta l'annata complimenti a questi ragazzi e ti fai una dedica dedichi a qualcosa fai un pensiero corri indietro una dedica la devo fare a mia famiglia a mia moglie a Patrizia ai miei ragazzi perché è la cosa più importante della mia vita e poi complimenti al presidente ai ragazzi a questo splendido pubblico dunque queste le parole del tecnico del Benevento che è stato anche sulla panchina del Pescara lo ricorderete poi l'esonero e la cavalcata di Oddo nei playoff che poi però non diedero edito non non sfociarono con la promozione Bucchi la ha dietro l'angolo dopo l'anno di Perugia sarà il nuovo tecnico del Sassuolo ringrazio Sebastiani è stato il primo a darmi un'opportunità un altro dei tecnici che sono passati per la panchina del Pescara nell'apertura dell'Abruzzo Sport del Messaggero quell'anno pieno di difficoltà mi ha fatto crescere in fretta Nicastro non è un esterno puro ma vede la porta come pochi la nuova stagione il 6 agosto la partenza della Team Cup per quanto riguarda le prossime scadenze che riguardano il Pescara Nel taglio basso il Teramo per la panchina ha scelto Asta l'ex allenatore della Feralpi Salò dovrebbe firmare nei prossimi giorni un contratto di due stagioni vediamo il titolo sul Teramo anche del quotidiano il centro Teramo Asta in Pol sarebbe un onore Lega Pro l'ex tecnico della Feralpi riprende quota dopo l'arrivo di Repetto che ha rescisso il contratto col Pescara sarà lui a scegliere il nuovo allenatore l'ex dirigente di Biancazzurri ha preso visione dell'organico e dovrà valutare le posizioni dei calciatori sotto contratto che non rientrano nei piani proseguiamo sempre con la Lega Pro andiamo a vedere anche il titolo dello sport della città il Teramo adesso è pronto al salto con Asta dopo la chiusura con Repetto il diavolo è pronto all'assalto al nuovo allenatore l'ex Feralpi in vantaggio il tecnico cresciuto nel settore giovanile del Torino sembra essere stato individuato come il profilo ideale per ricostruire un progetto a lunga gittata nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca weekend decisivo non c'è stato ancora un vero e proprio contatto diretto ma è probabile che ci sarà molto presto forse anche nel weekend proseguiamo con lo sport torniamo sul centro andiamo a vedere questa notizia di Serie D la vastese su Stivaletta e Chiacchiarelli e poi la pallavolo maschile la SIECO fuori nella prima fase alle finali nazionali under 18 e ancora volle e allievi Marche Emilia Romagna trionfano agli studenteschi nel taglio basso il Francavilla spera di riavere di lallo e Milizia domenica la sfida decisiva per la promozione poi il softball piccoli Atomini crescono a suon di successi andiamo avanti ancora Ricci trofeo Matteotti tradito dalla federazione ciclismo 16 luglio la corsa giunta alla settantesima edizione con la nazionale azzurra il patrono attacca di Rocco ci aveva promesso i tricolori e il comune e poi calcio a 5 a Bassano al Pescara stasera serve l'impresa per coltivare ancora il sogno scudetto continuiamo Sabatini e Beneduce da oggi a Firenze gli abruzzesi più attesi ai campionati juniors e promesse di atletica da domani a Vasto la festa nazionale Cedas di calcio a 5 pallavolo nel taglio basso domenica a Milano Papa premiato all'Italian Surf Awards e poi King e Queen si spera in Zaitsef Beach Volley ad Alba Adriatica l'8 e 9 luglio abbiamo ancora qualche secondo per completare la lettura dello sport della pagina dello sport del del messaggero e allora andiamo a vedere la pagina la seconda pagina Pescara stasera o mai più vincere o addio scudetto per il calcio a 5 la serie D l'Aquila nuovo incontro per la cessione del club ieri sono stati chiariti nuovi dettagli Battistini confermato e poi la SIEC ufficializza l'ingaggio di Menicali il centrale proveniente da Siena affiancherà il confermato Simoni soddisfatto il coach Nunzio Lanci e il giocatore che volevamo per il basket a Roseto è scattata la Summer League ancora il calcio De Vincentis potrebbe rilevare il Lanciano 1920 l'attuale presidente del Francavilla nel taglio basso Mammarella Pescara pronta un playoff da protagonista per la palla nuota e poi il calcio l'avezzanese Lucarelli ammesso al corso UEFA a pro chiudiamo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina l'appuntamento con mattino 6 e per domani alle ore 8 mentre l'informazione oggi torna alle 14 con il TG6 che poi si aggiorna alle 19 e alle 23 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata grazie a tutti